Le celebrazioni del 2 giugno iniziano con la tradizionale deposizione della corona di fiori all'altare dei caduti in piazza dell'Unità, alla presenza delle istituzioni, con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incentrato sulla gratitudine a chi in questi lunghi mesi non si è tirato indietro nella lotta contro il virus. Quest'anno la festa per i 75 anni della Repubblica italiana è dedicata proprio ai sanitari che a Firenze sono stati invitati a presenziare, con la loro testimonianza, al Consiglio Comunale Solenne, che si è svolto sull'arengario di Palazzo Vecchio. Per l'occasione Poste Italiane ha realizzato una cartolina filatelica con bollo speciale figurato con l'annullo del francobollo Davide di Michelangelo e il francobollo Professioni Sanitarie, recentemente emesso. È questo il premio che il Comune di Firenze ha deciso di donare ai 200 operatori sanitari invitati alla cerimonia.